perché l'uomo ha iniziato a cuocere i cibi premesso che ovviamente fu omo erectus a scoprire il fuoco e imparare anche a controllare in maniera effettiva e vera e propria il fuoco possiamo anche dire che appunto siamo degli animali piuttosto recenti e che la nostra esistenza fa parte di un lunghissimo processo che è durato appunto milioni di anni e quindi siamo frutto dell'evoluzione che non dipende dalla volontà ma come ci rivela darwin appunto dipende dal caso tuttavia perché l'uomo appunto ha smesso di mangiare la carne cruda perché appunto la carne cruda prima della scoperta del fuoco appunto richiedeva una lunga ed estenuante masticazione e quindi omo erectus una volta che cominciò a dominare il fuoco a controllarlo capì anche che era necessario cuocere la carne perché appunto la cottura facilitava poi anche la digestione del cibo di per sé e ovviamente quell'energia che non veniva più utilizzata per masticare a lungo secondo gli antropologi ha permesso appunto lo sviluppo del cervello nell'uomo ma di pari passo omo erectus è stato anche in grado di iniziare a costruire dei piccoli strumenti litici per fare la carne anche in piccoli pezzi e quindi ovviamente questo ha facilitato di gran lunga la masticazione ma attualmente invece ci ritroviamo al paradosso opposto cioè molti cibi moderni sono eccessivamente ammorbiditi dalle industrie e quindi ovviamente pensate per esempio agli hamburger che sono praticamente una carne tritata alla fine dei conti molto destrutturata dal punto di vista chimico molto lontana dalla vera carne che mangiavano i cacciatori raccoglitori ovviamente sono dei cibi molto morbidi e non implicano ovviamente una masticazione importante questo chiaramente è alla base del fatto che il regime alimentare moderno attuale non richiede appunto una masticazione importante e questo con la scarsa masticazione comporta di conseguenza un ridotto sviluppo delle ossa macellari se le ossa macellari sono piccole i denti non possono appunto trovare lo spazio giusto per rompere o se rompono appunto sono affollati cioè sono tra virgolette storti e di rimando ovviamente esergeranno problemi ortodontici per questo motivo è importante comunque una masticazione non dobbiamo appunto masticare carne cruda ma allo stesso tempo mangiare dei cibi fibrosi salutari è importante il finocchio la carota cibi appunto consistenti soprattutto sin da quando si è piccolo in modo tale che l'organo masticatorio possa ricevere appunto gli stimoli corretti e prevenire appunto poi l'applicazione dell'apparecchio ortodontico ad un certo punto se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace iscriverti al canale e ci vediamo al prossimo video ciao